Abbiamo una didattica incentrata sulla studente, quindi anche con attività innovative, penso all'attività di laboratorio, all'attività progettuali che lo studente conduce in team, sfruttando in questo anche una relazione continua con il docente e quindi favorevole il rapporto numerico tra studenti e docenti. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale è aperto e connesso con il mondo. A Trento abbiamo lavorato sodo per costruire un network internazionale che garantisca ai nostri studenti la possibilità di conseguire la doppia laurea, di crescere grazie a tirocini e a scambi culturali, a perfezionare la specializzazione in aziende straniere. In questa università ho trovato molti professori in diversi departamenti che hanno aiutato a me in finire la mia studia di researche, durante la mia PhD studia, che hanno aiutato molto a me, perché ho potuto pubblicare alcuni buoni dei nostri membri, senza questo, non è stata impossibile per me. Grazie a tutti.